Raffaele è per chiunque genitore, il figlio che tutti avrebbero voluto avere. Il rammarico è che oggi sono qua proprio per dimostrare che l'unica colpa di Raffaele era quella di andare un'ora di divertimento dopo aver lavorato il 15 agosto. Sette anni fa quello schianto che ha cambiato la vita di un'intera famiglia, però la disperazione per la perdita di un figlio giovanissimo e la volontà di capire fino in fondo cosa fosse accaduto. E non è un anniversario come gli altri per papà felice che dopo una lunga personale battaglia nelle aule del Tribunale di Trani ha potuto segnare un primo importante passaggio. La nuova respinta dell'archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, Lucianna Altamura, per la morte del giovane chef Raffaele Casale, avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 agosto 2016 in via Martiri di Palermo a Trani, c'è una concausa per l'incidente, cioè la presenza di Aghi di Pino che rese il manto stradale particolarmente scivoloso. Raffaele viaggiava a bordo della sua moto quando nei pressi di una curva perse il controllo e finì la sua corsa contro un muretto. E oggi sono sul luogo dell'incidente proprio per dire a mio figlio che finalmente sono riuscito a tirare fuori la verità, quella maledetta verità di quella notte che in effetti sarebbe le vere responsabilità che lo stesso GIP ha tirato fuori, ha imputato sia l'AMIU che il Comune per la mancata pulizia della strada. Ed è la realtà di quella notte e non è quello che si è voluto far emergere sull'imperizia di mio figlio, e l'alta velocità. Quell'alta velocità non ha modo di esistere perché all'atto in cui si è provato, gli Aghi di Pino hanno influito sulla tenenza della moto, quella velocità è diventata 60 orari. Da sette anni i familiari di Raffaele, in particolare Papa Felice, hanno chiesto indagini più accurate e denunciato tante omissioni che hanno caratterizzato questi anni. E il giudice tranese, rigettando l'ennesima richiesta di archiviazione del PM, ha definito l'imputazione coatta per concorso in omicidio stradale per gli indagati. Francesco Patruno, funzionario del Comune di Trani e RUP del contratto di servizio con l'azienda dell'Igiene Urbana AMIU è l'amministratore unico dell'azienda all'epoca dei fatti, Alessandro Guadagnolo. Archiviata la posizione invece degli altri tre indagati, cioè una donna al volante di una vettura che seguiva Casali in sella alla sua moto, il comandante della polizia locale Cuocci Martorano e il dirigente dell'area lavori pubblici dell'epoca del Comune di Trani di Donna. Ora si attende a settembre l'imputazione e la richiesta di rinviaggiudizio per i due, ma dietro l'angolo c'è la prescrizione per i reati penali. Per me è una beffa, ma i veri criminali sono chi ha operato in questi sette anni a nascondere le indagini, perché era evidente che gli altri dipini stavano la notte stessa dell'incidente, perché io ho dovuto metterci sette anni per dimostrare che c'erano gli altri dipini.